Sono qui per dirti che sono tanto orgogliosa di te, di quello che sei e di quello che sicuramente sarai. E grazie a te che io e i tuoi fratelli stiamo bene, insomma vanno a scuola e mi hai tranquillizzata un po', che pensi solo a noi, al tuo lavoro. Sono proprio felice e orgogliosa.